Il GIOVACIAL Il GIOVACIAL Il GIOVACIAL Il GIOVACIAL Mi dispiace, Nikomini, ma questo gioco non funziona con chi vuole farsi ammazzare. Hey! Mi si è rotta la macchina! Mi creda. Lei è un uomo fortunato. Mi chiamo Hélène. Nikita. La battuta di caccia dura 20 minuti e se in quei 20 minuti non l'avremo colpita può considerare il suo debito cancellato. Mi piace toccarti. Perché diventi con un'altra donna? Non fai più parte del nostro gruppo. Sei fuori. Quelli come lui vogliono morire. Questi signori sono pazzi. Farmi sparare. Col cazzo! Ho vinto! Ti ho cercata in tutti i necrologi. Ti ho cercata in tutti i necrologi. Ti ho cercato in tutti i necrologi. Ti ho cercato in tutti i necrologi. Ti ho cercato in tutti i necrologi. Perciò che sono un'altra donna. E ti ho cercato in tutti i necrologi. Revolta il nostro gruppo.